Buonasera, le do la parola tra tre minuti, vorrei prima un quadro per finire qui il tavolo, militare dal generale, cioè fino a ieri abbiamo sentito l'incredulità sul fatto che Putin potesse arrivare a Kiev, si pensava va bene si prenderà il Donbass, farà il suo piccolo risico, metterà tre carri armati lì e avrà comunque vinto la sua battaglia e invece lui va avanti, cioè punta a fare un cambio di regime. È possibile che Putin si trovi però un nuovo Afghanistan dentro, cioè una popolazione che comunque combatte con le trincee, con le imboscate, con la guerra a terra sul terreno, come la vede lei da questo punto di vista l'operazione? Io credo che l'obiettivo di Putin non sia quello di occupare l'Ucraina perché ci troverebbe davvero nella situazione che lei ha descritto. Ci troveremmo di fronte a un paese che non sopporterebbe di essere sotto il tallone di Mosca e ci sarebbero fenomeni di guerriglia che naturalmente ne nascerebbero. Fenomeni di guerriglia che potrebbero tranquillamente essere alimentati dai paesi vicini perché ovviamente il confine dell'Ucraina è con paesi che appartengono alla Nato e che comunque possono costituire un ponte per dei flussi di rifornimenti. Cosa accadrebbe quindi? Accadrebbe che il controllo del territorio diventerebbe un incubo per Mosca che non si potrebbe permettere uno stilicidio di perdite che comunque avrebbe. Quindi l'ipotesi cos'è? Una guerra lampo? Quindi io non credo che l'obiettivo di Putin sia questo. Penso che l'obiettivo sia, come è stato già accennato, quello di un cambio di regime, un quizling qualsiasi si trova, non è un problema, che prende le redini del governo di Kiev, giura sulla mamma che non aderirà mai alla Nato e a questo punto l'obiettivo di Putin sarebbe conseguito. Dico sarebbe... Cioè una Bielorussa 2? Sì, ma dico sarebbe perché io non riesco a capire la logica di chi dice non voglio avere la Nato ai miei confini, ma già ce l'hai la Nato ai tuoi confini. C'è l'Estonia, c'è la Lettonia, Kaliningrad confina con la Polonia e la Lituania, nel nord della Scandinavia l'ho visitato io la linea di confine tra la Russia e la Norvegia e la Norvegia è dal 49 che è dalla Nato. Quindi questa pretesa o è una pretesa... È un falso pretesto, dici. O è un falso pretesto, oppure se è un pretesto vero, davvero siamo diretti verso uno scontro totale con la Nato e quindi l'ipotesi di un conflitto generalizzato. Lei, come prevedeva Maurizio Molinari, potremmo arrivare a uno scontro missilistico, cioè l'opzione della terza guerra mondiale. Mi scusi se... Insomma, forse è un po' allarmista dirlo adesso, però insomma siamo tutti molto impressionati, no? Lei oggi lo escluderebbe al 100%? Io non lo escludo al 100% perché dipende molto da quello... anzi dipende esclusivamente da quello che farà Putin. Se Putin aggredisce i paesi della Nato è chiaro che la Nato deve reagire. Sarà una reazione proporzionata? Certamente sì, ma noi ci troveremo di fronte alla famosa scala, quando si parla di escalation per l'arrivo alla guerra nucleare, dobbiamo immaginare una scaletta, si arriva a un certo punto, c'è un gradino, ci si deve fermare a pensare se è il caso di salire questo gradino o meno, e si arriva alla fine, e alla fine c'è la guerra nucleare.